Resta ricoverati in coma farmacologico all'ospedale Cotugno di Napoli, il giovane agropolesi affetto da meningite, ad Agropoli intanto c'è preoccupazione, ma la situazione è sotto controllo, assicurano i medici. Scivola in un canale e muore, tragedia Capaccio Pestum, vittima un agricoltore di 83 anni. Cronaca, buon abitacolo per l'omicidio Pascuzzo, chiuse le indagini il 21 marzo, udienza preliminare. A Polla, donna investita da un'auto pirata, denunciato, un 79enne scoperto grazie allo specchietto. Maxi evasione di 3 milioni di euro a Giungano, denunciato amministratore e prestanome di una società. Il Cilento è in terra santa con Donaniello Adinolfi. Gran successo per lo spettacolo di Bruno Venturini, seguita la produzione di Sette TV. Benvenuti e ben ritrovati in un appuntamento con le informazioni del TG7, l'avete appena ascoltato nei nostri titoli. Resta ricoverato al Cotugno di Napoli, il 15enne di Agropoli, arrivato ieri mattina all'ospedale San Luca di Vallo con una meningite batterica. Il ragazzo sarebbe in coma farmacologico. La notizia naturalmente ha sollevato non poca preoccupazione nel centro cilentano. I medici però tengono a rassicurare la situazione sotto controllo. Intanto sono state sottoposte a profilassi tutte le persone che sono state in contatto con il 15enne, quindi i familiari e gli amici di scuola. E questa mattina un secondo caso ha creato allarmismo. Una ragazza è arrivata all'ospedale San Luca, ma la notizia naturalmente non è stata confermata. La ragazza non ha la meningite, ma intanto facciamo il punto della situazione nel nostro primo servizio. Resta ricoverata all'ospedale Cotugno di Napoli, il giovane agropolesi affetto da meningite batterica. L'allarme era scattato nella mattinata di ieri intorno alle 13. In preda a febbre alte e dolori al capo, il ragazzo era stato inizialmente accompagnato all'ospedale di Agropoli. I sanitari in pochi attimi hanno ipotizzato che potesse trattarsi di qualcosa di grave. Per questo, al fine di effettuare maggiori accertamenti, era stato disposto il trasferimento all'ospedale San Luca di Vallo, dove il personale del pronto soccorso, gli analisti e i medici del reparto di malattie infettive hanno subito confermato la diagnosi di meningite. Decisivi sono stati gli esami eseguiti dal laboratorio di microbiologia molecolare, diretto dal dottore Marcello Ametrano del laboratorio di analisi con il responsabile Gaetano Schiavo. La diagnosi dei sanitari di Vallo è stata tempestiva. Di qui la decisione di trasportarlo al Cotugno di Napoli, specializzato proprio per questo tipo di problematiche, dove il ragazzo è ricoverato, sarebbe in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, e l'assessore alla pubblica istruzione, nonché dirigente medico presso il nosocomio Vallese, Rosa Lampasona, sono stati in contatto costante con il dirigente dell'ufficio prevenzione dell'ASL Salerno, il dottore Pierangelo Perito, e con il dirigente scolastico dell'istituto. La stessa ASL ha disposto la profilassi a base di antibiotici delle persone che sono venute in contatto con il giovane. Inoltre si è proceduto alla sanificazione dei locali della scuola. Le lezioni, nella giornata di oggi, si sono svolte regolarmente. Il paziente è un ragazzo di 15 anni, residente in località Moia d'Agropoli, studente del liceo Gatto, sezione classica. In città c'è preoccupazione per il caso, ma i medici tranquillizzano tutti, invitando chi è stato in contatto con il 15enne a seguire le prescrizioni mediche. L'ASL Salerno, fin dai primi minuti successivi al trasporto in ospedale del giovane, ha seguito le procedure per evitare la diffusione della malattia. Le persone che gli sono state vicino sono state sottoposte a cure specifiche. Difficile che si presentino ulteriori casi. Ieri un altro ragazzo è stato trasportato a Vallo con febbre alta, ma si trattava solo di influenza, esclusa ogni complicazione. Restiamo su questa notizia. Come dicevamo, la notizia della meningite che ha colpito il 15enne ha sollevato non poca preoccupazione ad Agropoli e noi proprio per approfondire queste reazioni, per sapere come la città di Agropoli sta vivendo questi momenti, ci colleghiamo con il nostro corrispondente Ernesto Rocco. Ernesto. Un saluto a tutti, come dicevate c'è allarmismo per il caso di meningite ad Agropoli, un allarmismo che le autorità definiscono comunque immotivato, anche dal Comune hanno diffuso una nota precisando che sono state messe in essere tutte le attività necessarie per evitare il contagio. In effetti l'aslo Salerno, subito dopo che il giovane era stato trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania, dove era stata diagnosticata in tempi strettissimi, la meningite, hanno avviato la profilassi per tutte le persone che sono entrate in contatto con lui. Quindi non c'è un rischio di contagio, anche se ovviamente soprattutto tra i genitori degli studenti c'è grande preoccupazione. E lo dimostra anche il fatto che ieri un altro studente è stato trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania nella serata di ieri con febbre alta, ma effettivamente si trattava di una semplice influenza, un malanno di stagione, quindi nessuna preoccupazione, nessun allarmismo deve essere fatto sulla vicenda. Ecco, ma ci sono state diverse reazioni già da ieri mattina quando la notizia si è diffusa. Le reazioni ad Agropoli sono state innanzitutto di preoccupazione, come dicevamo. Preoccupazione perché tra l'altro il ragazzo frequentava il liceo classico, quindi oggi gli studenti non sono poi andati a scuola sia quelli dell'istituto classico che quelli dell'istituto scientifico, insomma dell'Alfonso Gatto, proprio per permettere le operazioni di sanificazione delle classi. La preoccupazione inoltre è diffusa dal fatto che lo scorso weekend c'è stato un MACP di un istituto superiore agropolese al quale sembra che il ragazzo abbia partecipato, quindi molti si sono preoccupati che la presenza del ragazzo, il contatto con gli amici in un luogo comunque frequentato avesse potuto in qualche modo creare un contagio anche con altri ragazzi. Però oggi il vice sindaco di Agropoli, il Viraserra, ha chiarito che la malattia può essere sì trasmessa da un individuo all'altro, ma con contatti diretti e stretti, come può essere ad esempio il passaggio di saliva o comunque rapporti con il giovane che siano intensi, come ad esempio quelli dei familiari che hanno vissuto con lui. Chi ha avuto la possibilità di accompagnare i ragazzi in ospedale ha comunque elogiato il lavoro della Salerno dicendo che è stata immediatamente attivata la profilassi, quindi somministrato antibiotico a tutti coloro che hanno avuto contatti con lui, i compagni di classe, i familiari, gli amici, i parenti stretti. Quindi ribadiamo l'allarmismo in questo momento, stando a quello che dicono le autorità, è ingiustificato, però è ovvio che c'è tanta paura ad Agropoli per questo caso che non si registrava ormai da anni un episodio del genere. Grazie, grazie di Ernesto Rocco, noi ci spostiamo da Agropoli a Capaccio Pestum per la tragedia che è costata la vita ad un agricoltore che ha perso la vita dopo essere finito accidentalmente in un canale consortile profondo circa un metro e mezzo. Ebbene, a perdere la vita Antonio Cavallaro di 83 anni, la tragedia è avvenuta in via Cortigliano, i parenti ne avevano denunciato la scomparsa nella tarda serata di ieri quando si era allontanato da casa. Questa mattina la triste scoperta nei pressi di un ponticello sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia diretti dal capitano Francesco Manna che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Naturalmente è stata avvisata anche la Procura della Repubblica sul luogo della tragedia, gli operai del Consorzio di Bonifica di Pestum, i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno provveduto al recupero della Salma e l'unità rianimativa della Croce Azzurra di Licinella. Ancora cronaca, maxi evasione da 3 milioni di euro a finire nel mirino delle fiamme gialle a un imprenditore di Giungano e il suo prestanome. 3 milioni di euro di imponibile, sottratto a tassazione nei guai l'amministratore di una società discerale. La Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per un importo totale di 530 mila euro emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania sul richiesta della locale procura nei confronti di un imprenditore. Il provvedimento è stato adottato al termine di una complessa attività di verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Agropoli che ha portato alla scoperta di oltre 3 milioni di euro di imponibile, sottratto a tassazione con un imposto evasa complessivamente pari a circa 530 mila euro da parte di una società discerale operante nel settore del commercio all'ingrosso di carni. I militari agropolesi sono riusciti ad individuare l'impresa in questione attraverso l'incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati in uso alle fiamme gialle e nel corso delle attività ispettive hanno scoperto che il rappresentante legale dell'azienda controllata era un mero prestanome senza fissa dimora. La società verificata omettendo di dichiarare al fisco i ricavi interessati riusciva puri a vendere le carni a prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli di mercato di fatto generando una concorrenza sleale. L'approfondimento della posizione dell'imprenditore di Giungano unitamente ai numerosi controlli presso i fornitori della merce ha portato i finanzieri a denunciare alla procura per evasione fiscale sia l'amministratore di fatto che il prestanome. Con la misura cautelare emessa a garanzia del credito erariale sono stati sequestrati due appartamenti, sette terreni, tre autoveicoli e svariate quote societarie per un valore complessivo che copre l'intera spesa evasa. Torniamo ora ad occuparci dell'assemblea dei sindaci che si è svolta ieri mattina per l'elezione del presidente di CONSAC e di CONSAC Infrastrutture. Beh all'unanimità sono stati confermati gli uscenti quindi Gennaro Maione per la CONSAC Simone Valiante per CONSAC Infrastrutture ma l'assemblea ha visto anche alcuni momenti di discussione tra i primi cittadini presenti. Allora ascoltiamo insieme le interviste che abbiamo realizzato al termine dell'incontro. Si è raggiunta una sintesi, si è raggiunta la sintesi attorno alla conferma di Gennaro Maione quindi benvenga a tutto ciò. Penso che abbiano operato anche bene al CONSAC. Spero che nei prossimi anni con le sfide che ci sono possiamo ritrovare sempre questa struttura molto più vicina ai comuni anche con progetti innovativi. Noi abbiamo già fatto un accordo con il CONSAC per quanto riguarda un campo fotovoltaico che loro realizzeranno. Una parte di questa energia prodotta verrà a Vallo quindi questo è già un primo traguardo raggiunto. Dovrebbero finalmente partire appena la regione decide di fermare questo decreto anche i lavori di un finanziamento che abbiamo avuto per quanto riguarda la rete fognare che va a risolvere e va a bonificare alcuni fiumi di Vallo e poi risolvere l'annoso problema delle acque reflui che vengono dai comuni vicini, vicinori su Vallo e spero che questo anche si possa risolvere nel breve giro di posta. Ci sono una serie di situazioni che bollono in pentola. Spero che, vi ripeto, con la collaborazione di Gennaro Maione possiamo raggiungere questo obiettivo. Beh, un bel dibattito. Alla fine l'unanimità per questa rielezione di Gennaro Maione alla guida della Corsa. Ebbè, Gennaro Maione ha operato molto bene, è stato vicino ai comuni, ha risolto i problemi della parte costiera quindi siamo molto contenti. D'altra parte la discussione è l'anima di qualsiasi consenso politico per cui è bene, è bene la discussione e è bene anche il risultato che è all'unanimità. Ecco, voi proprio con la CONSA che come Comune avete una bella collaborazione anche per migliorare la rete idrica sul territorio. Assolutamente sì, assolutamente sì perché da qui a breve, nell'arco di qualche mese, realizzeranno l'ampliamento del potabilizzatore del Paino che avrà una portata da 30 litri al secondo a 90. Quindi diciamo che abbiamo sicuramente risolto la carenza idrica nel periodo estivo. Cosa augurare a questo ente? E beh, questo è un ente importante per tutto il territorio e che quindi auguriamo che vada avanti e si rafforzi sempre di più. I risultati sono molto positivi quindi ci fa ben sperare anche per il futuro. Beh, è una bella riunione animata però comunque alla fine, come dire, il territorio mantiene la sua compattezza. Beh, io penso che sia fondamentale che un territorio mantenga la compattezza e stamattina sulla scorta chiaramente e su questo ha fatto un plauso all'attuale di ieri e di oggi il presidente della CONSAC che in questi anni è riuscito non solo a mantenere l'equilibrio giusto e le risposte con tutti i territori ma è riuscito anche a qualificare ulteriormente la CONSAC e quindi stamattina come territorio abbiamo riconfermato con l'aggiunta di qualche altro rappresentante di area di territorio e quindi riteniamo che la CONSAC possa ancora continuare a svolgere un ruolo fondamentale per l'intero territorio. E' comunque uno degli enti più importanti del territorio? Assolutamente sì, noi non solo oggi lo inquadriamo in quella che è la specifica degli interventi a farsi ma riteniamo che in futuro possa andare a ricoprire anche ulteriori spazi. E tra i primi cittadini presenti ieri mattina anche il presidente dell'ente parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pogliegrino, sindaco di Sassano e Gregorio Romano, direttore del parco ma anche sindaco di Laurino. Ascoltiamoli allora nelle interviste realizzate. Questo è un consozio che gestisce una cosa più importante per questo nostro territorio una delle cose più importanti che è l'acqua quindi doverosamente credo che ognuno di noi debba ha il dovere di esprimere le sue opinioni, i suoi concetti. Avreste preferito più condivisione? Assolutamente sì, d'altra parte ritengo comunque che il presidente Maione si sia impegnato molto per questo nostro territorio e quindi la fiducia va soprattutto a lui ma le condizioni e le assemblee vanno condivise nella loro discussione anche perché si va, ripeto, a gestire un'opportunità per la nostra terra quindi abbiamo assecondato la volontà del presidente ma saremo vigili e attenti su quelle che sono le cose che accadranno da oggi in avanti. Sì, voglio fare i complimenti al presidente Gennaro Maione a tutti i gruppi del direttivo che ha guidato il CONSAC fino ad oggi anche perché abbiamo visto che i risultati sono stati veramente eccellenti un ente che funziona, un ente che è attento anche alla spesa che oggi non è di poco conto e soprattutto un ente che fa funzionare perché io devo dire, lo dico anche da sindaco di Sassano dove abbiamo l'acquedotto appunto gestito al CONSAC funziona veramente molto molto bene quindi complimenti a Gennaro Maione e io sono molto molto contento che oggi ci possa essere stata la riconferma del presidente e del direttivo in modo tale da continuare questo ottimo lavoro che viene fatto e il dato che mi fa piacere sottolineare è che il voto c'è stato all'unanimità e quindi un territorio compatto. Una bella realtà, un po' come il parco mette insieme Cilento a Vallo di Dio Sì, è davvero una giornata bella questa perché i sindaci hanno condiviso il lavoro che questo consiglio di amministrazione ha posto in essere e quindi gli hanno ridato fiducia perché posso continuare su questa scena Noi come parco siamo altrettanto contenti perché con il CONSAC da ultimo abbiamo fatto questa bella iniziativa sulla plastic free con le borraccette di alluminio e speriamo di poterne mettere in campo altre che vanno nella direzione auspicata dal parco Beh, anche il Vallo di Diano insomma, in questo momento importante per la CONSAC una realtà per il Cilento e per il Vio Sì, certamente il CONSAC offre un ottimo servizio Sala Consilina è passato con il CONSAC a dicembre del 2011 sicuramente per noi è un punto di riferimento perché con la propria competenza e la propria professionalità ha risolto tante problematiche sul nostro territorio io credo che determinati servizi debbano essere affidati anche a società pubbliche che abbiano una competenza nel settore in modo tale che i servizi possano essere garantiti in maniera ottimale a tutti i cittadini Siamo qui oggi per rinnovare la nostra fiducia al CDA che è stato implementato di due unità ma io voglio fare gli auguri al neopresidente Gennaro Maioni e a tutti i componenti io credo che il presidente Maioni sia stato vicino a tutte le realtà che appartengono al CONSAC soprattutto ha dato disponibilità di ascolto e anche di operatività per quelle che sono le esigenze di tutti i nostri cittadini quindi credo che questa realtà sicuramente ha lasciato un segno nel nostro territorio e rinnovo i migliori auguri a tutti i componenti sperando che nei tre anni successivi si possa fare lo stesso lavoro E' uno speciale dedicato alle elezioni della CONSAC potrete seguirlo nella terza ed ultima parte con tutte le interviste realizzate ma torniamo alla cronaca con i carabinieri forestali che hanno scoperto a Siciliano degli Alburni una discarica abusiva di rifiuti speciali ebbene all'interno di un terreno agricolo seminativo in località Macchitelle i militari hanno scoperto un invaso artificiale recintato da pali in legno e rete metallica di considerevoli dimensioni con una lunghezza di circa 60 metri le indagini hanno consentito appunto di appurare che la discarica recava non pochi danni al patrimonio ambientale la superficie dell'invaso realizzato mediante scavo del terreno è coperto nella parte visibile da guaina isolante di circa 1500 metri quadri per un volume di 6000 metri cubi naturalmente il responsabile è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per inquinamento ambientale è emerso infatti che l'invaso è di non recente realizzazione che i reflui in esso raccolti sono illecitamente gestiti cronaca giudiziaria perché sono terminate le indagini sull'omicidio di Antonio Pascuzzo a Bonabitacolo il prossimo 21 marzo è prevista l'udienza davanti al GUP del Tribunale di Lago Negro si deciderà sul rinvio a giudizio e quindi se processare o meno Carlo Lapenta accusato di omicidio volontario occultamento di cadavere pluriaggravato i fatti ricordiamo risalgono allo scorso aprile quando Pascuzzo fu ritrovato cadavere presso la piscina comunale di Bonabitacolo Lapenta lo aveva coltellato per motivi di droga e lo aveva gettato in un canale a Polla una donna viene investita da un'auto pirata l'uomo tenta la fuga ma è stato individuato si tratta di un 79enne i militari della compagnia di Sala Consilina diretti dal capitano Davide Acquaviva hanno denunciato a piedi libero un 79enne pregiudicato di San Gregorio Magno per omissioni di soccorso e lesioni stradali il grave episodio si era verificato nella tarda serata di lunedì a Polla mentre un'anziana donna si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali antistanti la propria abitazione per rientrare a casa era sopraggiunta a velocità sostenuta un'autovettura di colore bianco condotta proprio dal 79enne che aveva impattato contro il busto della donna passando con le gomme al di sopra del suo piede destro il pirata della strada non si era fermato a soccorrere l'anziana ma si era dileguato la donna era stata trasportata presso l'ospedale di Polla riportando lesioni gravi, contusioni al torace e frattura alla caviglia della gamba destra sottoposta a un delicato intervento chirurgico presso il nosocomio pollese dopo l'impatto con la malcapitata l'auto del fuggitivo aveva perso lo specchietto che è stato prontamente repertato durante il sopralluogo sul posto del sinistro dai militari dell'arma di Polla partendo proprio dal prezioso reperto i carabinieri sono riusciti a risalire al modello dell'autovettura e grazie all'analisi di diversi sistemi di videosorveglianza cittadini hanno poi individuato anche la targa del veicolo che aveva investito la donna il 79enne un pregiudicato di San Gregorio Magno è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e lesioni stradali nel pomeriggio di martedì i carabinieri della compagnia di sala Consilina hanno proceduto a fare leggere il domicilio all'indagato e a ritirargli la patente di guida portiamo pagina ma restiamo nel Vallo di Diano dove la banca Montepruno si mostra ancora una volta particolarmente vicina alla comunità e sensibile alle esigenze del territorio l'istituto di credito cooperativo diretto da Michele Albanese infatti ha deciso di donare una serie di arredi sanitari alcune apparecchiature elettromedicali alle unità operative di neurologia e di urologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla la finalità della donazione vuole essere dice Albanese un momento importante per il territorio e naturalmente per la sanità in particolare un contributo dunque al continuo miglioramento del lavoro svolto sul nostro comune territorio a favore dei decenni dei decenni del presidio ospedaliero Luigi Curto di Polla il Cilento è intanto in terra santa grazie al viaggio organizzato da Renzo De Cesare a chi ha visto la partecipazione e quindi quale guida spirituale Don Aniello Adinolfi parroco del santuario di Santa Maria delle Grazie di Vallo ecco adesso ci troviamo a Masata con un gruppo di non pellegrini qui sopra in verità perché questo è un gruppo di archeologi che ho trovato per strada eccoli qua quello è il Mar Morto lo facciamo vedere va bene eccolo qua qui c'è tutta una serie per capire il Mar Morto bisogna sapere la storia di Masata di Masata di un posto dove siamo noi adesso dal 3 al 10 marzo un gruppo di cilentani si è recato in Israele per visitare i luoghi santi il viaggio organizzato dall'agenzia di Renzo De Cesare Corinotti Viaggi è stato guidato spiritualmente dal parroco del santuario di Santa Maria delle Grazie in Vallo della Lucania Don Aniello Adinolfi dopo essere arrivati a Tel Aviv con volo proveniente da Roma prima tappa del viaggio è stata la Galilea con visite al Monte Carmelo a Nazareth a Cana al Monte Tabor e al Lago di Tiberiade poi si sono spostati nel deserto della Giudea con visite al fiume Giordano e infine a Gerusalemme e Betlenne per concludere il viaggio ad Emmaus e a Tel Aviv Jaffa un tour emozionante nei luoghi dove sono vissuti Gesù e Maria e nella terra dove si sono svolti la maggior parte degli episodi narrati nella Bibbia ad accompagnare i visitatori un israeliano di nome Eli ebreo di origini italiane trasferitosi con la famiglia in Israele per sfuggire alle persecuzioni razziali noi siamo proprio nella basia della grotta a Betlemma adesso abbiamo ascoltato Santa Messa con Don Aniello Adinolfi ecco adesso facciamo fare un saluto ai nostri amici di Sette TV da Betlemme e Don Aniello questa è la conclusione quasi del pellegrinaggio appunto focale appunto del pellegrinaggio stesso abbiamo sentito la messa pochi minuti fa vogliamo mandare un saluto ai nostri amici di Vallo della Lucana e di tutto il Cilento Sì da Betlemme da questa cappella che custodisce l'immagine di Gesù Bambino venerata dai pellegrinaggi che vengono qui da tutto il mondo un caro saluto a tutti e una preghiera per tutte le necessità spirituali e materiali di quanti ci ascoltano con l'invito a realizzare il pellegrinaggio in Terra Santa venire questa che è la terra di Dio la terra dove sono vissuti Gesù e Maria dove sono compiuti misteri più grandi misteri della nostra salvezza l'incarnazione la passione la morte la risurrezione del figlio di Dio la Terra Santa è stata definita il quinto Vangelo chi viene qui vede con i propri occhi tutto quello che ascolta nella lettura del Vangelo capisce meglio il Vangelo e associa le parole le immagini è un'esperienza bellissima un'esperienza che tutti almeno una volta dovrebbero fare un caro saluto da Bethlehem a tutti gli amici di Sette TV tutti i vallesi a tutti i cilentani gran successo per la produzione di Sette TV che vede protagonista Bruno Venturini ambasciatore della canzone napoletana in Italia e nel mondo apprezzata la nostra produzione vediamo gran successo per la produzione di Sette TV che ha visto protagonista il maestro Bruno Venturini ambasciatore della canzone napoletana in Italia e nel mondo lo spettacolo Bruno racconta Venturini canta è stato seguito da tantissimi telespettatori ha riproposto l'evento portato in scena dallo stesso Venturini il 6 gennaio al teatro dei Berardinis di Vallo della Lucania la produzione televisiva è frutto dunque di una bella collaborazione tra il nostro editore Giorgio Scelza e la famiglia Venturini un lavoro in esclusiva per Sette TV curato nei minimi dettagli e con gran professionalità da Salvatore Venturini e Marco Maiese lo spettacolo a gran richiesta è stato riproposto più volte un ringraziamento quindi da Sette TV ai tanti telespettatori che ogni giorno ci seguono la TV che vi offre sempre più professionalità proponendovi ogni giorno un'attente e puntuale informazione e beh su queste immagini del maestro Venturini ci fermiamo linea alla regia c'è la pubblicità ben ritornati in studio due appuntamenti il primo previsto a Novi Velia sabato 16 marzo con inizio alle ore 19.30 in via San Giorgio presso l'edificio scolastico con il seminario resto al sud seminario gratuito che vedrà la partecipazione di Donato Maiese consigliere comunale di opposizione del consigliere regionale Maria Ricchiuti e gli interventi di Nello Onorati di Mediterranean Factory e della dottoressa Fragnelli dello studio appunto Fragnelli per illustrare nei dettagli il finanziamento fino a 200.000 euro con il 35% a fondo perduto e il 65% a tasso zero per dare come dire una possibilità lavorativa occupazionale ai giovani del territorio altro appuntamento organizzato dalla banca Montepruno di Roscigno è sempre sensibile al territorio il giudice brigante di Felice De Martino questo è il libro che sarà presentato il 15 marzo alle ore 17 presso la sala culturale della banca Montepruno di Sant'Arsenio un momento ancora organizzato per contribuire alla promozione culturale del territorio ebbene i lavori saranno aperti dal direttore della banca Michele Albanese dal presidente del circolo banca Montepruno Aldo Rescinito seguiranno gli interventi di Carmine Pinto Giuseppe D'Amico giornalista naturalmente spazio all'autore Felice De Martino intanto mi fermo c'è la pubblicità subito dopo il nostro speciale dedicato alle elezioni di CONSAC e di CONSAC infrastrutture con tutte le interviste raccolte a fra pochissimo Grazie a tutti